Ammi subito la carta 400 euro che spenderò 50.900 fivo points di chef franco Ho speso tutti i soldi che mi ha dato Hai fatto bene Eh, la ringrazio Ruben Dias, trovato almeno 15 volte stasera Sui soldi sprecati, caro Nooo Un altro, un altro, un altro E' DATI Ciao amici di Youtube, qui con voi E' Sciale Pumbo Oggi ragazzi, siamo in un nuovo video Oggi ragazzi, come ti ho detto dal titolo Come ogni anno siamo nello spacchettamento Dei Toti La squadra migliore di FIFA In questo caso ovviamente di FIFA 23 E noi ci siamo fatti trovare pronti Per spacchettare veramente di tutto Quest'anno però qualcosa è cambiato Perché il pack opening è stato offerto Da Chef Franco Grazie a lui, grazie ai suoi soldi E alla sua carta Noi siamo riusciti a spendere tutti i soldi Per il pack opening dei Toti su FIFA 23 Quindi ragazzi, dobbiamo ringraziare per forza A Chef Franco Grazie papà, ti ringrazio anche qui Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Che è gratis Non si paga nulla Quindi mi raccomando Iscrivetevi intanto qui sotto Attivando anche la campanella Abbiamo spacchettato appunto in diretta Eravamo il live su Youtube Più di 50.000 FIFA Points Più di 200 pacchetti E' successo veramente il delirio Come avete visto il Toti Lo abbiamo trovato Ma io non voglio perdermi in chiacchiere E vi auguro subito una buona visione Papà, è arrivato il momento Stasera ci sono gli attaccanti Sgancia Sgancia il cash Sgancia il cash Mi servono i soldi Dammeli pure Mi servono gli attaccanti Stasera Più di tanti Non gli posso dare Grazie Stasera c'è Mbappé Messi E Benzema E si spacchetta I soldi ce li abbiamo E ora ragazzi Andiamo a comprare La ricarica portafoglio E i primi 100 euro Spesi di Chef Franco Eccoli qui Ricarica presa ragazzi Grazie Chef Franco E ora si va a spacchettare Per gli attaccanti 100 euro Grazie Chef Sono questi Eccoli qua Sono usciti Pappé 97 Messi 98 E Benzema Pacchetto oro Vai Andiamo Ci sono i toti Tanto Troveremo un cazzo Eh vabbè Il toti di Chef Franco Il toti di Chef Franco Ero Abita a preparare Sono mazzato di mano Inglese Tersito destro Trippier 84 Apri questo Pacchetto basi toti 500 pipa buona Eh vabbè Spagnolo Spagnolo ADT Tiago Aspaz Che fatta Acqua Vinda Nevi Tutto male Sì Sì In prestito Eh ma pure qua Lorenzo stanno ai 5 gradi Oh ma Ah 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 Dai Vai Andiamo Ma Tre ne abbiamo trovati Tre Sì Sì Messi Ma Ma è rotto il codio Ci sono No Ma chi è Ma chi è Sono in prestito Sono in prestito Ma Ma alle 8 escono altri pacchi Eh quindi Sì Eh sì Oh dai Dai Belga Oh buono No Esce toti Tra due giorni Eh beh che cazzo Ero buono Voglio un bocce di capire Esce toti Tra due giorni Ma che significa Così Ma era un buon portiere Su colline Eh voglio Alla domanda era forte Eritbollo 9 punti Sì Donnarumma Totti 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 Marets No Ziac Papa 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 Dai Dai È un bel video domani Ragazzi Brasiliano Atti Roberto Chef Franco Pacchetto Giocatore in area Max Invernale Ma chi vogliamo trovare Scusami Bappe Blu Benzema Blu E Messi Blu Dai No spagnolo No No Ma papà Che ci dà Una versione invernale Speciale del pacchetto Giocatori di area maxi Con 8 giocatori Rari Aggiuntivi Ora contiene 32 giocatori Tutti oro E tutti rari Qualcosa di buono Di buono Dai dai Cazzo E a chi cazzo Ehi ma sono coli Doci Da un sogno Dai Da ieri Roma Sono lì No sei distrutto Nega Chef Franco Eh sono fanno via mamma Eh ma viene qua Viene qua Ora proprio perché Premi Quadrato No quadrato Venga il blu Venga il blu ma If mamma Inglese C o c Vard Probse Ma Vattene No ragazzi siamo stati un po' sfortunati Vai If Ma non è walk out Robertone Giorgione ho trovato Ci risiamo Visto che Tra poco Esce la squadra Completa Tutti i 12 toti Bisogna spacchettare Di più Ammi subito La carta Carta di credito Papà Muoviti Dammi la carta Ecco Grazie si striscia Lei è un uomo di altri tempi Io sto morendo Grazie per i 400 euro che spenderò E non troverò neanche un toti Vabbè questo è sicuro È sicuro non troviamo niente Grazie Non piangere Andiamo Ora li spendiamo tutti Non me ne frega un cazzo E allora eccoci qui Direttamente live Siamo qui su FIFA Manca pochi minuti Abbiamo 50.900 FIFA Points Di Chef Franco Direttamente dalla sua carta Mancano 2 minuti e 20 secondi Abbiamo 200 pacchetti 34 pick 50.000 FIFA Points Dai cazzo L'ammatruavo forse Se no mancazze Vogliamo E a team of the IANA Sto carico Coccolum senti Diciamo Non sto a buona capo Scusatemi 2 1 È arrivato il nostro momento Primo pick di oggi Vai Iniziamo benissimo Madison Lo prendiamo centrale Munya in 84 Oh Vabbè 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 Mi hai portato fortuna Navas 88 Il maestro Chef Franco Chef Io ho speso tutti i soldi che mi ha dato Hai fatto bene La ringrazio If Vai con l'if Va bene Va bene Dai Non è andata mai Poteva andare meglio Dai 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 Luce fu Italiano Difensore centrale Altro 80 Palleggia Che cazzo palleggi Che cazzo palleggi Merda Nel buono Ci ha fatto Ci ha fatto Ci ha fatto Che merda Apriamo questo qua Da 75.000 crediti Da 500 Five points No No Con i crediti Sei un pazzo No No è mezz'io di dolore Mi sono cagato addosso Pedri Però Pedri Non male Chef Non male Dai Ci sta Andiamo Chef Franca Andiamo Andiamo Però Sto ascendo tutte le luci Certo Ti dico Una sola parola Misto Mio fratello Victor Rosimane Un applauso No un applauso Un applauso Un applauso Oh è menzione È menzione Ma costacci Bremer Bremer Buono però Però è buono Buono Se menzioni Mu E tengokai Che signif Non è toti Ma che paura Mi sono cagato sotto Per due Esatto No No Pazzo tu i crediti Di qua Vai Vai dai 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 Blu 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 Beata minchia Beata minchia Tiago Silva Velocità 49 Sei più veloce tu È chef franco È chef franco È chef franco Trova Blu 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 If chef Ma che cazzo Ma che ci facciamo Torrena Tutto in due Certo Facchetto giocatori rari Dai Niente regà Secondo me Un'altra volta Dai Che panino è Polpetta E si polpetta Il sapore E poi gli era più Ne chissi Ma che me ne f*** E poi gli era più Ne chissi Bene Come non detto Dai Vai io Dai Non va un cazzo Non va un cazzo Non va Non va un cazzo Ho trovato Lui Parucci Grande Va dai Dai maxi Dai Che palle Che palle Che palle Noia Il giocatore Ligano Vai Di nuovo Navas Di nuovo Navas Di nuovo Navas Non è possibile 2.000 fiat points Dai Ma tanto Non esce un cazzo Cioè Non esce una minchia Gli spagnoli Gli spagnoli Io li odio Non è possibile Ma orco 2 Paravano 3 attaccanti 83 più E dai If Io mi son rotto Le palle Degli if Chi è È il Sarawi È il Sarawi Così E' vero Rai non mi è uscito In un workout Attaccati in Sono Quindi Eh certo 100 cinturini Ora apriamo Ma la apriamo più là E' una bella cioccolata calda Proprio ghiacciata Cioccolata calda ghiacciata Hai rotto Hai rotto Non ce la faccio più Non ce la faccio più Navas Il mio inco No Questi bisogna aprirgli Cazzo Dai 3.000 fiat points Dai eccolo Non è possibile Dai pure Hai rotto le palle Barella Il supporto neanche Barella Papa ma dietro Su Barella Mia Cristina Però me la fa trova buona Che cazzo Vai Dai No hero No 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 Ma tutti iro Stanno esce Maronna Mi Voglio ammazzare Hero 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 Ehi Ti ho ammazzato Sei perdonato 10 giocatori 83 più Assessura If Io non ce la faccio più a trovare gli if Non ce la faccio più Non ce la faccio più Ma chi è Chiss Shakira 3 difensore 85 più No menzione d'onore di nuovo Di nuovo Bremer Di nuovo Bremer Ma vaffanculo Ma vaffanculo Ma vaffanculo Di nuovo Bremer L'ho già trovato a questo L'ho già trovato Abbiata minchia If Di nuovo Basta Basta Morelos Fammi rovinare 5 giocatori orari 83 più Ma non è possibile Non è possibile Non è possibile Solo if troviamo Ma è proprio una cosa incredibile Ma il nome del Il nome è nato da Che cazzo era Neymar? Oh Trovato Neymar Vabbè malamente Neymar È buono Cazzo schippi poi Ma che cazzo ne so Non me lo aspettavo E' un bale un cazzo Cento centurioni Papà non trova niente Ci ammazziamo Ci ammazziamo Perfetto Perfetto Eh perfetto Basile Neymar Casemiro no Pabbigno Perfetto Possiamo dire che il papà sta anche un po' nero Eh sto nero Io non ci stai trovando niente Ma il papà sta nero Lorenzo Insignia Cazzo papà nero Lorenzo Pellegrini Lorenzo Vlaovic Lorenzo Spinazzotti 300 gambisti Erottico io 200 pacchetti Zero doti Esattamente ragazzi Cantè Buono Buono Apri 11 giocatori 81 più Dai 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 Buschezza 85 5 giocatori 80 più Interessante Molto interessante No menzione Magnan Magnan Buono Bastardo Menzione Basta con ste menzioni Il rari maxi Rari maxi No No Ma che cazzo Cioè abbiamo trovato Magnan Nel 80 più No Ce lo tieni Questo è da 1500 Vai Non lo so che cazzo è qua Ma che cazzo No 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 Di nuovo 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 Dai ragazzi Voglio un bel like 2500 like Dai Dai No Basta 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 Tre volte Tre volte Rotti coglioni Da 3000 FIFA Points Non è totale Mamma mia 3000 FIFA Points Sono anche non scambiabili questi pacchetti 1500 FIFA Points Eh ma niente Eh ma niente 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 Non va Cross Mo l'ho trovato Pacchetto Ultimate Pacchetto Ultimate Eh l'ultima speranza Eh niente Oh è scena di cross Non ben dia Non te l'ho trovato a questo 3000 FIFA Points Niente Niente Zero Zero Ter Stegen 1500 FIFA Points Niente Tony Cross Ah non sono i coglioni Antonio Cross Per l'ennesima volta 10 giocatori 83 più Mamma mia Non si vede neanche l'ombra Joao No Diogo Ioto Altro pacchetto Ennisimo Alexander Nandoli Il problema è che Trovo sempre gli stessi Esce Cambia esce Ruben Dias Trovato almeno 15 volte Sono risolto spiegato Questi stanno rimanendo pochi Ma apro uno questo Vai No Cancelo Buonissimo Buonissimo Non è scambiato Cioè menzione d'onore Dodi L'anno scorso L'abbiamo trovato Dodi Questo In cui dobbiamo apri questi Quello da 1500 Apriamo questi ragazzi Apriamo questi Vediamo Sì Oh è fortissimo Dai Sullo capo Dei stessi No Arnold Non l'ha già trovato Proprio ragazzi Ma Zero Un altro Un altro E' to' ti E' to' ti E' to' ti Sì Sì L'ho trovato Sì Finalmente E' to' ti E' to' ti E' to' ti Andiamo L'ho trovato Sì 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 E vai Vaffanculo 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 Vai Vai Sei 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 Sì Le buone viste Sì All'ultimo Ma il mannaggia Qual era? Porca troia Quelli da 1500 Quelli da 1500 Quelli da 1500 sono buonissimi Ma eravano all'inizio Eh andiamo Non è scambiabile Peccato Eh vabbè Akimi Devo andare Con i cross di nuovo Devo spacchettare questi ragazzi Vai Oh no Ma il secondo di seguito mi ammazzavo Fekiri è buono Oh ma adesso sta andando bene ora Vai sto nel momento Vai 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 sto nel momento Sto nel momento Sto nel momento Vabbè Enzo ci ha fatto sceltoti Di nuovo cross secondo me ho trovato No ma io basta Ho fatto di nuovo Ma io basta Ma io basta Ma basta Mi sa che è il penuto E' contento Capri dai No ma non c'ha Madonna mia Ma come cazzo è possibile E niente ragazzi questo è stato il pack opening dei toti Abbiamo trovato Akimi toti Abbiamo trovato una volta cross Qualche volta Alexander Arnold Questi giocatori non li abbiamo proprio trovati Però stesso ieri in diretta ragazzi abbiamo anche completato un bappe pot Ma con tutti sti giocatori che abbiamo trovato Siamo riusciti a fare un bappe gratis In settimana faremo qualche live Quindi mi raccomando E' campanella attivata Rimanete sintonizzati Perché faremo una live su youtube Dove facciamo una squadra nuova Dove proviamo un bappe Proviamo Akimi Tutti i nuovi giocatori Magnan Cancelo eccetera Fatemi sapere qui sotto Voi nei commenti Se avete trovato un toti Se il mio pack opening vi è piaciuto Se sono stato fortunato o meno Con tutti questi soldi che ho speso Vi invito sempre a lasciare un bel mi piace Un bel commento sotto al video Iscrivetevi al canale Da me Da questo pack opening dei toti Con i soldi di Chef Franco E' tutto Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao io Mi sa che per imbappare i toti Ci riproviamo il prossimo anno